Era stato convocato per lunedì 23 novembre il Consiglio Comunale Straordinario di Caltanissetta per discutere della grave crisi idrica in città. Invitati al Consiglio i vertici di Caltacqua, Sicilia Acque e Ato Idrico. Nessuno però si è presentato. Rammaricato l'assessore comunale al bilancio Boris Passorello. Sentiamolo. Il Consiglio di oggi è un consiglio importantissimo. Colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri comunali che hanno ritenuto opportuno dedicare un Consiglio Comunale straordinario a un tema così attuale, qual è quello dell'emergenza idrica. L'unico dispiacere è notare l'assoluta assenza di Caltacqua e di tutti quei rappresentanti legati alla problematica idrica che hanno ritenuto, chi giustificando e chi non giustificando nemmeno, di non presenziare a questo momento di incontro, di riflessione e di proposte. Come è già noto, l'amministrazione, in particolare il sindaco Giovanni Ruvolo e l'assessore alla vivibilità e viabilità, hanno effettuato diversi incontri, anche a livello regionale, per verificare la risoluzione del problema che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. E si è giunti a degli impegni che contiamo di poter rappresentare ai cittadini che porteranno ad una rapida risoluzione delle sostituzioni delle tubature vecchie con quelle nuove nel centro storico entro il 2015, mentre per l'anno 2016 Caltacqua, durante l'incontro effettuato alla regione, si è impegnata a sostituire gli impianti e le tubazioni idriche delle zone periferiche, in maniera tale da poter garantire l'erogazione dell'acqua quotidianamente. La regione, in particolare il dottore Armenio del Dipartimento regionale, ha assunto insieme a Siciliacqua l'impegno di sovvenzionare economicamente la sostituzione, la modernamento della rete idrica che dalle dighe porta l'acqua alla città. Abbiamo studiato approfonditamente il contratto, la convenzione con Caltacqua e il contratto non prevede delle opere di compensazione, però Caltacqua, alla luce anche delle difficoltà che hanno dovuto vivere i cittadini nisseni, ha assunto due impegni. Il primo è quello di verificare la possibilità di donare alla città una casa dell'acqua. Il secondo è noto che a breve verranno distribuite le social card e prima della distribuzione di queste social card l'amministrazione con Caltacqua proveranno a quantificare un importo che Caltacqua accrediterà nelle social card che verranno distribuite alle famiglie meno abbienti della città. Famiglie meno abbienti che durante il periodo in cui non si è effettuata la regolare distribuzione dell'acqua hanno dovuto anche loro effettuare delle spese acquistando l'acqua per poter provvedere alle primarie esigenze per cucinare, lavarsi, eccetera. Tutto questo è sicuramente un passo avanti rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi. Ci aspettiamo che il Consiglio Comunale ci dia delle idee attraverso degli atti di indirizzo che come abbiamo fatto in passato lo faremo anche per questo nuovo atto di indirizzo o nuovi atti di indirizzo l'amministrazione si impegna a rispettare nel più breve tempo possibile.